non c'è il ragazzo entra madonna mia ma è scema è pi 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 gesù gesù pi ma non credo che ha qualche bambino a casa gesù giuseppe maria pi 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 leveti filippo filippo se levasse ma chi è sta dormendo quello basta 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 signora basta basta ok attento filippo levati levati stavano lanciando vasi dalla balcone mamma mia una signora dal terzo piano di attenere 500 di attenere 590 no ma è pazza si si stiamo cercando di togliere tutto ma sta facendo la pazza è nuda sul balcone è dal terzo piano si è nuda dal balcone sta tirando tutto no 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 stiamo cercando di fermare tutti ma stiamo attento sta facendo la palla oh gesù madia 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 ma signora si toccata baciami antonio levati ma la taglia sto stronza mamma mia ma perché non ci ha ammazzato sola ma antonio scherzi ma questa si muta ora oh entra levati mi chiamai mi chiamai mi chiamai mi chiamai stanno arrivando che su giuseppe e maria ma questa è scemonita allora ma sarà straniera si questa grandissima ma 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 la tua macchina dov'è melania ma 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 renditi conto renditi conto renditi conto salvatore dove sei via ma ma che sono i suoi figli già se l'è portato suo marito se l'è portato stamattina ma perché per vedere un po' di sciotto ci vuole io eh per vedere un po' di sciotto vi ho chiamati un'ora vi ho chiamato e non è che su a scarire la botta scotta scotta l'ottimo e via fiss ma donna no ma è è assurdo madonna c'è assurdo signora glielo sta preparando aspetti un attimo non è sandox glielo sta mettendo dell'aurobin per il cane basta di volo che sono il prodotto è pazza allora